Bene, avanti. Noi possiamo fare anche in un modo tale che è un po' beggiare. Andiamo. Perché lei ha... Però dovresti finire questo? Si, si incastrare. Sì, oggi abbiamo la prima trattata SJ-CAM, ora faccio 10 minuti e afficcio, per che non si tratta. stagione come tu disposizione disposizione per oggi a diablo тренировка продолжается тренируемся не останавливаемся движение жизнь non si sto chistando questo apprezzo per capire come sta stabilizzando corso perché c'è questo dentro c'è stabilizzatore anche qua c'è un telefono sì 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 Итак, всем привет CJCAM сейчас проводим тестирование микрофона говорят, что плохо слышно на улице ну вот и посмотрим один Grazie a tutti